Come sono felice oggi di portare un altro video dedicato al Mac e lo sono ancora di più perché sto per mostrarvi 5 app completamente gratuite ma soprattutto fenomenali che aumenteranno il livello di user experience a bordo del vostro Mac. Ma un nuovo video cosa significa anche? Forse l'arrivo di un nuovo sfondo? Sbagliato perché gli sfondi che arrivano oggi sono ben due. Il primo è lo stesso che state vedendo in questo momento sul mio Mac in una tonalità più chiara e il secondo stesso design ma con una tonalità decisamente più scura così potrete adattarli al meglio secondo le vostre esigenze. Per comodità ritrovate i link per scaricarli qui sotto nella descrizione del video vi porterà sul mio sito web dal quale potrete scaricarli entrambi. Ma ora buttiamoci a capofitto per scoprire le 5 app fenomenali ma soprattutto gratuite da installare sul vostro Mac. La prima app che vi voglio mostrare quest'oggi si chiama Menubar X o Menubar 10. Pronunciatela un po' come volete ci dà la possibilità di ampliare l'esperienza del Mac. Vi faccio vedere subito. Guardate la mia scrivania e noterete come qua in alto ci sono due iconcine. Una di Instagram e una di TikTok. Cosa succede se ci clicco? Proviamo su quella di Instagram. Si apre il mio profilo di Instagram dal quale vi invito anche a seguirmi. Siete sempre di più quindi se non mi seguite ancora fatelo immediatamente. E da qui vedete ho esattamente la stessa esperienza di navigazione che posso per esempio ritrovare direttamente dal mio iPhone. Posso muovermi fra le foto del mio profilo. Posso cambiare la modalità di visione. Guardare i reel ma anche muovermi nella schermatina home. Fare una ricerca. Guardare i reel più visti in questo momento. Posso rispondere ai messaggi. Modificare il profilo. Insomma da qui posso accedere rapidamente a tutte le cose che normalmente posso fare dall'app. Ma la cosa vale anche per esempio per TikTok. Vedete ho fatto clic sull'icconcina di TikTok e mi si apre il mio profilino dal quale posso guardare per esempio anche un reel che ho pubblicato pochi giorni fa. Vedete è esattamente la stessa esperienza solo che al posto che dovrei prendere in mano tutte le volte il nostro iPhone o il nostro dispositivo mobile lo potrò fare direttamente dalla barra del menu. Ma queste sono solo alcuni due esempi di quello che possiamo fare grazie a quest'app. Se infatti e vi faccio vedere come funziona vado sull'icconcina di TikTok e faccio un clic destro proprio sull'icconcina vedete che mi dice crea un nuovo tab chiudi questo tab e altre opzioni. In questo momento voglio chiudere questo tab e aprirne uno totalmente nuovo. Quindi l'ho chiuso vado su quella di Instagram e faccio un new tab e da qui mi compare la finestrella di benvenuto dell'app che mi propone già diversi servizi. Vedete Twitter, Instagram, c'è addirittura ChatGPT, la nuova intelligenza artificiale, il Meteo, il traduttore di Google. Se scendo un pochino posso ritrovare anche Spotify, SoundCloud, YouTube stesso e anche dei giochini. Vedete che se faccio un clic sul giochino mi compare questo gioco storico meraviglioso e posso giocarci direttamente da lì. Ma la cosa ancora più intelligente è che vedete che se torno per esempio alla mia icona di Instagram e mi muovo fra le foto, qua in basso c'è un pulsantino fatto proprio a dispositivo mobile. Se ci clicco potrò addirittura andare a scegliere lo user agent, ovvero quale browser utilizzare per la navigazione. In questo momento io ho selezionato mobile e lo stesso che utilizzo con Safari per iOS, ma potrei anche dirgli di utilizzare quello desktop o addirittura di usare quello di Chrome o di Android. E potrò anche andare a scegliere la dimensione, in questo momento io ho scelto la dimensione dell'iPhone 14 Pro Max, cioè la finestra che vedo è esattamente delle dimensioni dello schermo del mio iPhone 14 Pro Max. Quindi potrete in qualsiasi momento aprire queste finestrelle, tornare anche indietro dal browser e aprire esattamente la cosa che volete. Sappiate che con questa app potrete aprire fino a due finestrelle superiori in modo totalmente gratuito e il link per scaricarla ve la lascio qui sotto con tutte le altre. Se ne volete di più, quindi incrementare la quantità delle app da posizionare sulla barra del menu o anche dei bookmarks, cioè dei segnalibri che ci riportano velocemente a un sito o all'altro, ci sarà da sbloccare la versione Pro che costa 5,99€, ma provatela nella versione completamente gratuita perché già due finestre secondo me sono abbastanza e soprattutto si scarica dal Mac App Store. Per la seconda app vi voglio parlare di un'applicazione che mi avete consigliato proprio voi in tantissimi in altri miei video dove mostravo un'app simile ma solo che era a pagamento, mi sto riferendo a Magnet, che è a pagamento sul Mac App Store. Questa fa le stesse identiche cose solo che è in modo completamente gratuito. Si chiama Rectangle e ci porta a utilizzare le finestre del Mac in modo molto più intelligente e si avvicina tantissimo all'esperienza di chi proviene da Windows. Vi faccio vedere un esempio. Apro Safari, questa finestra di Safari, e se la posiziono in qualche punto laterale o non centrata e la voglio ricentrare, devo andare sempre un pochino ad occhio. Grazie a Rectangle, e vedete qui la sua iconcina, potrò centrarla immediatamente o posizionarla dove voglio. Vedete, qui c'è il pulsante Centra, lo clicco, e andata completamente centrale, vedete quante possibilità mi dà questa app, e la cosa molto intelligente è che potremmo sempre utilizzare delle abbreviazioni da tastiera. Nel caso del Centra vedete che è Control, Option e C, ve lo faccio vedere, sposto, Control, Option e C, ed è andata completamente centrale, ma queste funzionalità si espandono perché se ad esempio prendo la finestra di Safari e la muovo sulla sinistra, vedete che compare una schermata che mi dice dove andrà a posizionarsi, e si è messa esattamente a metà schermo, e questo è utile se per esempio apro un'altra app e le voglio suddividere in maniera precisissima una a destra e una a sinistra. Vedete, sposto calendario ed è comparsa sulla destra, dividendomi perfettamente lo schermo. La cosa carina è che quando le stacco dalla posizione in cui sono incollate, tornano nell'esatta dimensione che avevano prima, avete visto con calendario, riproviamo anche con Safari, vedete ha ripreso esattamente le dimensioni che aveva prima, quindi si tratta veramente di amplificare, di portare l'esperienza delle finestre a un altro livello, guardate se per esempio la sposto verso l'alto, rilascio e va direttamente a schermo pieno, quindi vi faciliterà tantissimo la vita. Quest'app, come vi dicevo, è completamente gratuita, trovate il link per scaricarla qui sotto in descrizione insieme a tutte le altre. Spero vivamente che le prime due app che vi ho mostrato vi stiano piacendo e soprattutto che potranno esservi utili in futuro per migliorare la vostra experience qui sul Mac. Ci tengo però a farvi la solita piccolissima richiesta, ovvero quella di lasciare un bel like al video e soprattutto quella di effettuare l'iscrizione al mio canale. Si tratta di due gesti rapidissimi e gratuiti per voi, ma per me di enorme importanza per la mia crescita qui su YouTube. Ci tengo anche a invitarvi a guardare un altro video che ho portato giusto qualche mese fa in cui vi mostravo altre 7 app gratuite da installare sul vostro Mac che avete guardato quasi in 100.000, quindi per comodità ve lo lascio qua sopra in scheda, ma lo ritroverete poi anche sotto in descrizione. Continuiamo con le altre app gratuite. E sono arrivato così all'app numero 3 che si chiama Copy Clip. Ma cosa fa quest'app? Innanzitutto quest'app viene denominata nel jargo informatico Clipboard Manager, ovvero un'app che tiene uno storico, una specie di lista di tutte le cose che abbiamo copiato volta per volta sul nostro Mac e ci permetterà poi in un secondo momento di andarle a richiamare per essere incollate dove vogliamo, a nostro uso e piacimento. Sapete un po' tutti che su macOS uno dei limiti è quella che se copiamo un elemento per poi incollarlo, ma nel frattempo copiamo un'altra cosa, verrà sovrascritta quella coppia e ci farà incollare soltanto l'ultima cosa che avevamo copiato. Con questa app, con questo metodo risolveremo completamente la cosa. Per farvi vedere l'esempio innanzitutto richiamo Safari e da qui diciamo che come prima cosa che voglio copiare è il mio indirizzo della mia pagina web, quindi la seleziono, faccio un pulsante destro, coppia o più semplicemente Command-C da tastiera e ho copiato il mio indirizzo e quindi questa è l'ultima cosa che ho copiato. Ma nel frattempo navigo nel sito, vado a guardare un articolo del mio blog, prendiamo da esempio uno degli ultimi sfondi che ho creato per l'altro video, seleziono tutto questo testo e gli vado a dare ancora una volta copia o sempre Command-C da tastiera. Però non è finita qui perché voglio copiare anche un'immagine che si trova per esempio in una mia cartella, quindi richiamo una cartella del Finder, mi muovo in Download, qui ho una cartella che si chiama Proprio Cartella, vedete che qui c'è un'immaginina, set up per Mac e faccio ancora una volta Command-C o copio e adesso come funziona perché ho copiato tre cose. Prendo da esempio una nota, quindi vado a creare una nuova nota per rincollarci dentro le cose, mi posiziono in alto e provo immediatamente a fare Command-V, ovvero l'incolla come avremmo fatto di solito e vedete che è comparsa proprio l'immagine, ma in questo modo non avrei accesso più né al testo che ho copiato poco fa né soprattutto all'URL, quindi mi posiziono in basso, vedete che qua su c'è l'iconcina di Copy Clip e vedete che proprio qui c'è le due cose che ho copiato poco fa, ovvero sia l'URL, quindi lo seleziono cliccandoci e poi vado a dargli l'incolla qui o Command-V, fate un po' come siete più veloci, boom, è comparso il link, ma voglio copiare anche il testo che avevo copiato poco fa nel mio blog, vedete è pronto per il download, quindi dalla lista lo scelgo facendoci clic e vado ancora una volta qua e gli dico ancora una volta incolla ed è comparso tutto il testo, avete visto che ho copiato tre elementi, sono rimasti nell'iconcina dell'app nella barra del menu e da quel punto si creerà volta per volta un elenco lunghissimo da cui potrò andare a tingere per rincollare dove volevo tutte le mie cose, è un'app secondo me fantastica ed essenziale, è completamente gratuita e trovate come tutte le altre il link qui sotto in descrizione per scaricarla. E siamo già arrivati alla penultima app, ovvero la numero 4 che diventerà secondo me un'app essenziale sui vostri Mac, si chiama Latest e come dice la voce capirete che si occupa di aggiornare tutte le app che avete sul vostro Mac, andiamo innanzitutto a richiamare l'app, eccola qui, Latest, la apro, si apre questa finestrella, sempre un pochino piccola, dobbiamo solo andare un po' a reingrandirla, la centriamo e vedete che ci fa vedere nella parte sinistra tutte le app che abbiamo installato sul Mac dividendo questa lista in due, ovvero quelle che hanno un aggiornamento disponibile e quelle che invece sono già tutte aggiornate. La cosa fenomenale è che funziona sia per le app che magari avete scaricato dal sito web dello sviluppatore, quindi direttamente da Safari o da Chrome, ma anche quelle che sono presenti sul Mac App Store che avete comprato o avete semplicemente scaricato in modo gratuito proprio da App Store. Quando c'è un'app che va aggiornata, e lo vedete qui nell'esempio, Final Cut Library Manager, mi dice che io ho la versione 3.94 installata, ma c'è disponibile la 3.95, la cosa bellissima che di fianco ci fa vedere anche il changelog con tutte le novità introdotte. Quando la voglio aggiornare, come devo fare? Seleziono semplicemente l'app, gli do un clic su aggiorna, qui in questo modo mi chiede ovviamente la password di amministratore del sistema, gli do conferma e in pochi secondi l'ha già aggiornata ed è secondo me il modo più comodo per stare sempre aggiornati con tutte le app e con tutti i rilasci che gli sviluppatori fanno. È completamente gratuita e come tutte le altre, il link per scaricarlo è qui sotto in descrizione. E sono arrivato così all'ultima app della giornata, la numero 5, che si chiama Itzy Call e si occupa del calendario del nostro Mac, ma ci rende l'accesso al calendario di una velocità straripante. Vi faccio vedere, vedete che qua in alto nella mia barra del menu superiore c'è il numero 26, ma proprio perché nel momento in cui sto registrando è domenica 26, quindi sta a indicare il giorno. Se ci faccio un click, ecco qui è comparso il mio calendario con il mese corrente, con tutti gli impegni dei prossimi giorni. Quando ci passo su vedete che mi si evidenzia anche nel numerino della giornata e mi fa quindi dare uno sguardo generale a quelli che saranno i prossimi impegni semplicemente con un click dalla barra del menu superiore e non più dovendo aprire l'app calendario e guardare giorno per giorno o nell'elenco abbastanza caotico che mi ritrovo. È accessibilissima, ma la cosa che la rende ancora secondo me più stupenda è la personalizzazione perché se accedo all'ingranaggio da qui e vado a dirgli preferenze, potrò scegliere innanzitutto delle impostazioni generali scegliendo qual è il primo giorno della settimana, quali calendari voglio che mi vengano mostrati e quanti giorni mostrarmi. Io ho messo al massimo perché così ho un ventaglio più ampio, ma se vado in aspetto potrò scegliere ad esempio di modificare l'icona, vedete che adesso è diventata pieno il numero 26, se riclicco mi va sul vuoto e potrò aggiungere anche di fianco al numerino del giorno il mese o ancora di più il giorno della settimana, per me è l'ideale mantenere solo il giorno ma potrò anche andare a modificare la dimensione della finestra stessa vedete che adesso l'ho posizionata su quella più piccola ed è effettivamente un po' più piccola a me piace, tutta grande perché vedo molte più cose e potrò scegliere anche i temi di sistema, quali giorni evidenziare se usare dei punti colorati, insomma è estremamente personalizzabile ed estremamente veloce accedere finalmente al nostro calendario è completamente gratuita come tutte le altre app che vi ho mostrato nel video di oggi la ritrovate sul sito dello sviluppatore il link è qui sotto in descrizione queste erano quindi le cinque app gratuite che volevo mostrarvi oggi e che sono certo che potranno migliorare in tantissimi sensi la vostra esperienza sul Mac e in Mac OS quello che mi interessa di più come sempre è sapere da voi cosa ne pensate di queste cinque app se già le avevate, già le conoscevate, già le avevate installate sono totalmente nuove e soprattutto se andrete a scaricarle mi farà molto piacere sapere la vostra esperienza quindi vi aspetto davvero, davvero i numerosissimi qui sotto nei commenti vi ricordo anche di non perdervi l'altro video che ho portato a circa metà dell'estate in cui vi mostravo altre sette app gratuite per il vostro Mac direi che anche per il video di oggi è davvero tutto ci tengo a sottolineare ancora una volta che quando parlo di Mac io sono felicissimo spero di trasmettere anche a voi la stessa sensazione noi ci vediamo presto prestissimo qui sul canale con tantissimi nuovi video un grande saluto da Francesco ciao 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 ciao